Il circuito di Spa-Francorchamps celebra oggi il Gran Premio del Belgio, dodicesima prova del Mondiale di Formula 1 con una prima pila Mercedes con la pole conquistata da Lewis Hamilton, accanto a lui il compagno di scuderia Nico Rosberg sopprendente terzo posto per la Williams di Bottas davanti alla Lotus di Grosjean Le Ferrari partono in difficoltà in questo weekend con Petter che parte dalla nona posizione e Raikkonen fresco di rinnovo contrattuale dalla quattordicesima Inizio della gara alle 14 ore italiana